Tim vola in apertura a Piazza Affari. Il mercato premia la proposta del fondo americano KKR di Unopa, un'offerta pubblica di acquisto amichevole e subordinata al parere del governo italiano, a mezzo euro circa per azione. Il fondo USA, famoso per gli spezzatini aziendali, cioè l'acquisto e la vendita di società, con sede a New York complessivamente gestisce circa 400 miliardi di dollari e sarebbe disposto a spendere ne 11 per prendere tutta Tim. Ma per il colosso francese Vivendi, primo socio di Tim, che in un primo momento ha fatto sapere di essere pronto a collaborare con il governo italiano, l'offerta di KKR non riflette il reale valore di Tim, è insufficiente. Il governo ha chiarito subito ieri sera, a consiglio Tim ancora in corso, che seguirà il mercato, che deciderà quanto è solida l'offerta. Solo in seguito potrebbe intervenire per porre dei paletti, se necessario, lo scorporo, cioè della rete, da affidare in mani pubbliche. L'offerta fa saltare i piani di Vivendi di decapitare la guida della società. Infatti, nelle ultime settimane, il colosso francese, che aveva cercato di acquisire inutilmente il controllo di Tim, stoppato dal governo, aveva chiesto la testa dell'amministratore delegato Gubitosi. L'obiettivo era eleggerne uno più vicino, capace di fare sinergie con le aziende di Oltralpe. L'arrivo dell'Opa potrebbe far saltare l'operazione o far scegliere una di comunque più vicino a cassa depositi e prestiti. Giovedì e venerdì sono previsti la presentazione del piano industriale di Tim e il CDA sulla situazione aziendale.